I ragazzi crescono, prendono la loro strada. E poco importa se per pochi metri, se dietro l'angolo di casa. Sono i primi passi da soli, senza mamma e nemmeno papà. Sono le prime grandi prove per dimostrare di essere grandi, autonomi. È quello che è successo al piccolo Santiago, ha ancora 11 anni, al figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che ha fatto il suo debutto da applausi con Affari Tuoi. La paparazza di chi mostra Santiago De Martino in giro per Milano con il suo skateboard in mano, il cellulare, un paio di cuffie e l'aria consapevole di un piccolo adulto. Ma nessuna uscita anticipata, nessun strappo alle regole fissare da mamma Belen in questo caso. La verità è che Santi, come lo chiama suo padre, sta percorrendo, scrive il settimanale Chi, i pochi metri che separano la casa di mamma Belen da quella dei nonni Veronica e Gustavo. Un tragitto guidato via telefono a quanto pare. Un pezzo di strada dove il piccolo De Martino non ha nemmeno bisogno di usare la sua inseparabile tavola a quattro ruote. Uno strumento di locazione con cui ha cominciato a convivere fin da piccolo grazie a suo padre Stefano. Magari la prossima volta lo userà per un tragitto più lungo. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.